Ciao, sono Paola Maria e il mio blog è La Margherita e il Lappio. È nato qualche anno fa quando mi sono separata per raccontare a mio figlio quello che stava succedendo e raccontarle anche i dettagli della nostra vita. Poi con il tempo si è evoluto e ho iniziato ad inserire nel blog anche qualcosa relativo a quello che faccio, cioè mi rente al mondo della moda e ultimamente parlo anche un po' di giardini, insomma delle mie passioni. I tre termini con cui lo definirei sono fiorito, colorato e sentimentale. L'ultimo libro che ho letto è stato Il giardino di Elisabeth, di Elisabeth von Arnim, mentre l'ultimo blog che ho visitato è quello di Chiara Peri, Ieni Belchis, che è una ragazza di Roma che si occupa di rifugiati e trovo sempre interessante quello che dice e di cui scrivo. Quando non scrivo in rete sono mamma, prima di tutto, mi occupo della nostra casa in campagna, progetto giardini e lavoro stagionalmente nella moda, ormai sono 17 anni. I miei sogni in rete sono quelli di continuare a portare avanti la margherita e il lappio, spero che non muoia mai e di aver sempre voglia di raccontare i dettagli della nostra vita. E poi mi piacerebbe portare avanti anche giardini e giardinetti, che è il blog dove parlo dell'altra attività di cui mi occupo, che è la progettazione del giardino. Nella vita vorrei semplicemente andare avanti così, vedere il mio figlio crescere e vivere la campagna, sperando ovviamente che tutte le mie passioni crescano insieme alle sue. insieme alle sue.